Ben trovati web spettatori di TV Radicale, sono le ore 16 e 15 e comincia la trasmissione di Moltarabè e dintorni, la trasmissione curata da Dimitri Buffa, giornalista che tutti conoscete, e che quest'oggi va in onda indifferita perché stiamo registrando, oggi è il 23, oggi è, perdonate, il 21, venerdì 21 ottobre 2011. Ciao Dimitri, Dimitri è già collegato con noi, ciao Dimitri come stai, tutto bene? Sì tutto bene, purtroppo per motivi tecnici siamo costretti a fare pure solo via audio perché qua non funziona niente. Purtroppo solo via audio e 15 minuti perché la banda non regge, è una delle vergogni italiane. Una delle grandi vergogni nazionali, sono 5 volte che tentiamo di fare questa cosa. Esatto, però siccome abbiamo poco tempo ed oggi è una giornata importante perché proprio ieri è stato ritrovato, è stato trovato, scovato Gheddafi che si nascondeva in un cunicolo dopo gli attacchi della Nato sulla città di Sirte e è stato ritrovato da un ribelle ventenne ed è stato ucciso e poi è stato sostanzialmente, diciamo, come si può dire Dimitri, una nuova piazzale Loreto, non lo dicevamo prima? Sì, è stato praticamente linciato. Linciato. Ti volevo chiedere, la prima domanda è questa, la mancata consegna di Gheddafi a un tribunale penale internazionale per i crimini contro l'umanità, quanti segreti si porta dietro Gheddafi e forse anche di più di quanti se ne portava dietro Saddam Hussein, giusto? C'è una certa analogia tra i due casi. Sì, a cominciare dall'ultimo segreto è il perché ha fatto il pagliaccio nella riunione della Lega Araba che avrebbe dovuto decidere l'eventuale paese che si accollava l'esiliato Saddam Hussein che se avesse lui accettato questo esilio, ma penso che l'avrebbe accettato. Quindi lui fece il pagliaccio in diretta televisiva che era trasmessa su Al Jazeera, insultò il reggente dell'Arabia Saudita, chiusero il collegamento, andò a puttane tutta quanta la riunione e dopo pochi giorni scoppiò la guerra. Poi abbiamo saputo dalle memorie di Aznar che forse la cosa non era casuale, non si sa se ha fatto il lavoro sporco per conto di Bush, di Blair e dello stesso Berlusconi che potrebbe sapere qualcosa oppure potrebbe essere il solito accondiscendente nonché utile idiota. Questo è l'ultimo dei segreti, ma lui se andiamo indietro nel tempo se ne porta migliaia di segreti. Il primissimo segreto è quando tentò ancora vivo Burghiba, lo sanno pochissime persone, all'inizio degli anni 80 di fare un golpe islamista in Tunisia partendo dal sud della Tunisia, da Gafs, e lì ci furono proprio morti, bombardamenti. Una cosa che non sa nessuno, che ne parlavamo con quell'amico cuoco Ismail Altaieff di cui ogni tanto parliamo, quel ragazzo che cerca ancora lavoro e che speriamo che qualcuno prima o poi glielo dia. Poi si porta ai segreti della Walker Baye del volo Panam dello stesso anno, 300 e passa morti e tutte queste cose qui. Poi si porta ai segreti dell'eliesto. Ricordiamo Sigonella no anche. No, Sigonella no, perché Sigonella è una cosa che riguarda i palestinesi. Si porta dietro tutti i segreti della prima e della seconda repubblica, i segreti di chi gli è andato a baciare la mano, ma anche di chi ha fatto l'anticamera davanti alla tenda come D'Alema e Prodi già dieci anni prima dell'ultimo carosello che non gli ha portato molto fortuna qui a Roma nel 2010, nell'estate 2010. Si porta dietro tutto, si porta dietro anche la sua aurea di folle, di schizofrenico curato in cliniche come scrive oggi venerdì sul giornale Magdi Cristiano Alam in cliniche francesi. Si porta dietro le sue onorificenze che a legge le viene da ridere pure in questo contesto tragico. Gran maestro dell'ordine della Repubblica, gran maestro dell'ordine del coraggio, gran maestro dell'ordine della Gihad, gran maestro dell'ordine del grande conquistatore. Questi se li hai autoattribuiti da solo. Probabilmente lui aveva un biglietto da fisica tipo quelli di Fantozzi, Grand Arc Loop Man, una cosa di questo tipo. Poi recentemente aveva avuto l'ordine della grande stella in Jugoslavia nel 99, il collare dell'ordine dei Libertadores da Chavez in Venezuela, compagno onorario d'onore con collare dell'ordine nazionale di merito di Malta. Ce ne saranno sfuggiti altri, però non ha avuto poi la laurea onoris causa per i diritti civili e delle donne che gli voleva dare l'Università di Sassari, il magnifico rettore che non si è ben capito se lo doveva fare in quel contesto delle Amazzoni e dei Caroselli a Roma nel 2010, oppure se voleva solo farsi pubblicità. Io ho scritto proprio una biografia sulle cazzate che le persone hanno scritto su Gheddafi. Ne voglio leggere solo una di un professore che dice di essere editor della settimana enigmistica, un tale Carlo Batà, che fa solo lo slogan più discutibile, l'Africa non necessita di democrazia ma di pompe d'acqua, la popolazione ha bisogno di cibo e medicine. Questo è quello che hanno scritto di lui. Tra l'altro noi abbiamo aiutato Gheddafi a uccidere i suoi dissidenti libici da lui cacciati qui in Italia attraverso il sismi. Questa cosa è stata raccontata in un'audizione alla commissione stragi del 31 gennaio 1996 dal colonnello Demetrio Cogliandro, il quale ha raccontato di questi agenti che fornivano ai sigari di Gheddafi gli indirizzi e le foto delle persone da andare a uccidere qui a Roma, che io non capisco come nessun magistrato abbia mai voluto indagare su questa cosa. Si parla di obbligatorietà dell'azione penale, no? Mi fa credere che l'obbligatorietà dell'azione penale sia veramente una cosa ridicola, perché poi magari la si applica per degli fatti di rilevanza piuttosto discutibile e poi in certi casi non la si applica. Qui si parla di omicidi che non sono ancora prescritti, che io sappia i complici nei servizi di sicurezza del sismi di Santo Vito dell'epoca, alcuni sono ancora vivi e meriterebbero di essere perseguiti per concorso in omicidio plurimo e pluriaggravato. Comunque questa è la cosa. Facciamo un po' un piccolo viaggio nel passato, raccontiamo come era salito al potere questo dittatore, che è Montmaggeddafi. In che modo era salito al potere? Il golpe inizia il 26 agosto del 69 ed è un golpe lampo, perché si chiude con il primo settembre lo stesso anno. Era un nasseriano, lui veniva considerato un nasseriano, infatti aveva fondato i liberi ufficiali unionisti che riecheggiava un po' gli ufficiali liberi di Nasser. Pare che sia stato in qualche maniera aiutato dalla Gran Bretagna e dalla Francia a fare questo golpe. Lui comunque aveva studiato in Gran Bretagna e ha cominciato la propria carriera nell'esercito col grado di capitano all'età di 27 anni. Immediatamente, appena diventa il reis libico, crea pure questo neologismo per cui in tutto il mondo arabo lo ha sempre preso per il culo fino dall'epoca, questo della Giamairia, no? Cos'è la Giamairia? La Giamairia, quella che viene da noi tradotta alla Repubblica, in realtà è un neologismo che non vuol dire niente. Giamairia, giusto? Giamairia o Giamairia, perché sì, perché è una specie di plurale inventato, un plurale rafforzativo, peraltro un plurale atantum, del nome Giumuria che vuol dire Repubblica, ma lui siccome è megalomane ha dovuto creare la Repubblica della Repubblica, la più repubblica di tutte e tutto il mondo arabo, diciamo quello colto che conosce le parole, perché sappiamo che grado di analfabetismo c'è nel mondo arabo, solo per questo fatto lo prende per il culo da quando l'ha fondata questa cosa, perché è proprio un segno, un semantema del suo essere una persona fondamentalmente folle, però folle e ricco, io scrivevo sull'opinione di venerdì mattina che si poteva anche scrivere è morto Gheddafi, ma qualcuno è morto il più grande azionista di Unicredit, specificando che in questa settimana a profumo non gliene era andata bene una, oppure si potrebbe sottolineare che la Fiat e la Juventus avevano perso l'imprenditore di riferimento o anche il principale partner del Lenin in Libia cade in guerra. Ecco, lui è stato quello che ha salvato la Fiat negli anni 80, entrando con un capitale immenso nel momento più grave della crisi, addirittura era a fine degli anni 70 e poi ha accettato di rivendere ad Agnelli le azioni quando era passata la Buriana, quindi è un uomo che aveva benemerenze presso i potenti italiani di tutti i tipi, per cui poi andarsi a focalizzare oggi sull'ultima buffonata con Berlusconi è insieme comodo e ingeneroso come al solito, no? Beh, sarebbe sempre ricordato una certa parte o un'altra, insomma, gli storiari. Sì, sì, perché nel momento che adesso la sinistra va nelle piazze fomentate all'uomo alla violenza, ribellatevi al tiranno, ribellatevi al porco Berlusconi e dimentica che loro sono stati peggio e che probabilmente sarebbero peggio se andassero al governo. Dimitri, magari dimenticasse, magari dimenticasse, è che purtroppo questo popolo della sinistra, soprattutto dei giovani, manco le esaste cose perché nessuno gliel'ha raccontata, quindi bisogna dimenticare. Parliamo dei dirigenti, i dirigenti sicuramente sì, dimenticano di ricordare. Esatto, però in Italia c'è anche gente che non vuole ricordare perché purtroppo la cosa politica si è polarizzata come quella delle squadre di calcio, per cui io se sono della Lazio faccio finta di non vedere gli schifosi cori in curva nord antisemita. E' un'etnocrazia, la nostra si potrebbe definire. Esatto, una etnocrazia in qualche maniera o una democrazia reale come dice Pannella. Gheddafi era un figlio nostro in qualche maniera, purtroppo stava lì, qualcuno gli è stato benissimo che ci stesse il più a lungo possibile. Anche lo stesso Bush, come ricordiamo in quella cosa di prima, ma anche quando dopo l'11 settembre ha cominciato ad aprire lui come una specie di baluardo nella lotta al terrorismo islamico, dimenticando che lui poi andò al potere in una forma di islamismo, come si potrebbe dire, socialista. Il famoso libro verde era una sua riscrittura delle regole islamiche in chiave laica, nella sua megalomania non ha nemmeno risparmiato la religione degli islamici, ma lui per questo era temuto e odiato, per questo gli islamisti sono sempre stati i suoi nemici, salvo il fatto che come ti dicevo lui in Turchia finanziò un golpe islamista che non andò a segno per miracolo. Burghiba fece una forte repressione, nessuno ricorda questo episodio adesso, però proprio il mio amico Ismail se lo ricorda bene, lui aveva 14 anni all'epoca. Dimitri, abbiamo detto che facciamo questa puntata un po' più ristretta, la facciamo di un quarto d'ora. Il futuro, cosa accadrà adesso in Libia? La guerra è finita sostanzialmente tra alcuni focorai, cosa accadrà adesso in Libia? Chi prenderà il potere? Quale governo provvisorio durerà quello che c'è? Cosa pensi? Premesso che io non sono la Sibilla Cumana, ma tutte le premesse mi fanno pensare al peggio, perché adesso che è stata liquidata in questa maniera indegna la questione con un linciaggio, sono tutti pronti a fare i bagagli, anche perché stava costando troppo. Una missione che dura due settimane è durata sei mesi, un sacco di soldi sprecati, se bisognava farlo fuori così forse si riusciva a farlo anche in maniera più rapida prima. Ce ne andiamo via tutti, li lasciamo al proprio destino e l'ultimo chiuda la porta. La Francia e la Gran Bretagna si sono assicurate le grosse commesse, l'Eni sarà l'unico che continuerà a fare affari degli italiani, perché non può essere scavalcato per un semplice motivo. Ha costruito delle strutture che non è pensabile non utilizzare, quindi l'Eni vive un po' di rendita. Però se io dovessi dire a un'impresa italiana adesso di andare in Libia, ci penserei due volte, anche perché la SACE non te copre, rischiano di far tutti la fine di quelle del consorzio AIRIL del compianto Leone Massa, che è morto poco prima di Gheddafi, ma che era stato il suo grande antagonista nel tentativo di farsi pagare i crediti per tutte le aziende che lui rappresentava, compresa la propria, quelle bidonate negli anni da Gheddafi e quelle consigliate subito dopo il colpo di Stato dei politici democristiani dell'epoca di andare in Libia a fare affari. Perché tutto così funziona. Ti mandano avanti, vai avanti a te che a me mi viene da ridere, poi se ti capita qualcosa ti si scordano chi te conosce, ma che vuoi. E questa è la cifra dei rapporti tra le imprese italiane e quelle libiche sotto l'egita della Farnesina, della SACE e di quello che è l'Italia. Ecco adesso invece metteranno la loro presenza, anzi anche le imprese francesi naturalmente, ma l'incasso sarà così. Certo, ma lì sarà tutto diverso perché la Francia ha un vero Stato, ha una vera amministrazione che non scherzano, che gli mandano i miraggi se qualcosa non funziona. E noi abbiamo la russa, la differenza è questa. La russa che non è la russa una ragazza giovane proveniente dalla Russia, ma è la russa il nostro ministro della difesa. Loro anche nella peggiore delle ipotesi, come la Gran Bretagna costò Lion Fox che peraltro è stato silurato per storie così poco commendevoli di viaggi di Stato con il suo amico e di segreti di Stato rivelati, al suo amico, amante o quello che era, hanno comunque un potenziale economico e militare tale da incutere rispetto. Noi facciamo ridere. Noi eravamo, la russa che oggi dice che è morto un dittatore è lo stesso che voleva fare volare le trecce tricolori su tutti i poli solamente due anni fa. E l'Italia purtroppo è così, io non voglio fare il disfattista, io sono italiano e sono contento se il nostro paese va bene, però la classe politica che ci rappresenta meriterebbe, non dico piazzare Loreto, ma sicuramente di andare a finire a lavorare in un circo, perché non più di quello possono fare. E purtroppo non è che quella che sta a sinistra l'opposizione sia tanto meglio o tanto peggio. Parliamo in generale di tutta la classe politica italiana. A cominciare da Di Pietro che vuole rimettere la legge reale. Oh mamma mia, con l'asse maroni Di Pietro. Sarebbero tante le altre cose da dire, Dimitri. L'unione fa la forca. Prego, prego. Cosa stavi dicendo su Di Maroni Di Pietro? L'asse maroni Di Pietro, ovvero l'unione fa la forca, però Di Pietro è anche una bestia perché non sa che tre quarti della legge reale è tuttora ancora in vigore, magari non molto ben applicata, per cui parlano, parlano perché hanno la bocca purtroppo e perché hanno le telecamere sempre su di loro. Intanto c'è ancora una volta lo scandalo radicale, quasi Pasolignano della cena a Palazzo di Ergrazioni, proprio di ieri sera. Chiudiamo questa puntata proprio perché voglio sentire una tua opinione a tal proposito, quindi sicuramente saranno oggetto… Guarda, è una chiusura definitiva col PD a questo punto, secondo te? A questo punto ti dico una cosa, da radicale voterò sempre radicale, in qualunque contesto il partito radicale si presenti, a destra, a sinistra, con la Madonna, non mi importa niente, perché il fine è quello di mandare 9 o 10 veri parlamentari in un Parlamento di servi e comunque ci vadano con qualunque alleanza, tanto loro non tradiranno mai la propria identità di essere radicali. Se li eleggeranno a destra saranno una spina nel fianco di coloro che li hanno eletti, se li eleggeranno a sinistra è la stessa cosa, se andranno da soli saranno una spina nel fianco persino per se stessi. Per me è il marchio radicale che deve entrare in Parlamento, non mi interessa come c'entra, purché c'entri in una maniera democratica. Siccome noi non abbiamo la possibilità di pernottare da Floris piuttosto che da Santoro o da Bruno Vespa, dobbiamo arrangiarci con quello che ci passa il convento. Quindi viva pannella, nunc et sempre! Ecco, a parte questa valutazione un po' utilitarissima, io ti volevo stimolare più su un altro, su altri dire qualcosa, su Bersani. Perché è possibile addirittura parlare col Presidente del Consiglio di certi temi come l'amnistia per la Repubblica o anche la questione della libertà di ricerca scientifica o dei diritti degli omosessuali o delle coppie di fatto in generale? È possibile parlarne in una scena a Palazzo Grazioni con Berlusconi e non invece con il leader del centrosinistra e del PD del Partito Democratico o Democraticistico come direbbe Pannella, Berzani? Oppure Democratichicchi, come diceva... O democratico! quando a Ballarò mandò a fare in culo a Franceschini dicendogli ce la faccia come il culo pagina fantastica di Youtube la televisione italiana è veramente insuperabile è molto semplice perché tutto sommato Berlusconi preso da solo senza i suoi ingombranti alleati cattoclerico fascisti senza i leghisti che purtroppo comunque lui ha sdoganato e ha la terribile responsabilità di avere dato loro responsabilità come Gasparri, come tutti quanti leva questo, mettiamo solo Berlusconi Berlusconi è una persona liberale è una persona dei comportamenti liberali certo è un monopolista, certo forse è anche un po' un fio della mignotta tutto quello che vi pare però è un uomo che anche nella conduzione delle proprie aziende si è sempre abbastanza uniformato poi certo la vita lo ha cambiato e l'ha cambiato in peggio perché poi sai il Berlusconi nel 94 era una cosa, il Berlusconi che è ritornato vabbè, senz'altro, senz'altro è capace di tutto, no? quindi abbiamo da una parte il buon a nulla e dall'altra parte il capace di tutto alla fine, no? quindi esattamente capace anche di farsi del male da solo Berlusconi quindi forse i radicali potrebbero essere la sua la sua polizia di assicurazione che ne pensi? esatto, il problema però qual è? che lui è uno che ha imbandito un enorme banchetto dove vanno tutti questi ignobili parassiti, sciacalli a mangiare e quando arrivano degli ospiti normali come sono i radicali che sono pure educati, si levano il cappello non si spogliano, non scurreggiano a tavola e così vengono guardati male perché in una corte di Trimalcione chi non si uniforma esatto e quello è stato il problema per cui poi alla fine sono stati espulsi da un possibile tentativo Pamela ha raccontato la famosa cena con Buttiglione, con Bossi quando arrivano loro e questi stavano là a spartirsi i posti purtroppo Berlusconi ha preferito per convenienze di vario tipo questa politica e adesso raccoglie questi frutti c'è poco da fare un'altra domanda che si è fatto interessante è il discorso secondo te questa apertura di dialogo di Berlusconi nei confronti dei radicali che di questo si tratta in questa apertura possono aver inciso anche le posizioni che sta assumendo la Chiesa Cattolica la conferenza episcopale rispetto a Berlusconi cioè Berlusconi si rende conto secondo te di aver perso il sostegno almeno di una parte della CEI del Vaticano? guarda la Chiesa Cattolica si dimena come ha scritto Hans Kung il fallimento di questo Papa è palpabile è riuscito a fare vincere una coalizione anticlericale in un paese come la Polonia che sembrava fantascienza ha rotto quasi le relazioni diplomatiche con l'Irlanda con l'Irlanda che ha finanziato praticamente indirettamente più o meno è un terrorismo cattolico come quello dell'Ira per separarsi dall'Irlanda del nord dalla Gran Bretagna protestante è riuscito a rompere le cose diplomatiche per le coperture date ai preti pedofili in Irlanda ci siamo rimasti solo noi e forse Berlusconi si sta rendendo conto che inseguire questo mitico voto cattolico è un'idiozia perché i cattolici che vanno a votare della Curia, del Vaticano, del Lici, dell'otto per mille hanno sicuramente quasi tutti la stessa opinione che abbiamo noi ci stanno solamente quelli che lavorano ad avvenire a Sat 2000, all'ufficio stampa del Vaticano mettiamo mille persone, una piccola nomenclatura che rispetto a 7, 8, 12, 14 milioni di cattolici fra l'altro non tutti ovviamente militanti, sono il nulla assoluto ingraziarsi il Vaticano vuol dire ingraziarsi queste mille persone non vuol dire ingraziarsi 14 milioni di cattolici e secondo me Berlusconi comincia a capire questa cosa poi che le sue alleanze lo condizionino perché i leghisti non hanno un'ideologia e quindi devono fare i sanfedisti del cavolo o perché lui Dimitri ci sei? ecco siamo stati sfortunati purtroppo non abbiamo sentito l'ultima battuta di Dimitri vediamo se riusciamo a recuperarlo no, non credo è caduta la chiamata quindi vediamo un attimo se la ripristiniamo al volo vediamo un attimo se riusciamo a ripristinarla in solo audio perché purtroppo questi sono gli scotti che paga questo paese rispetto all'innovazione tecnologica un paese che dovrebbe avere una banda larga degna di questo nome in realtà si ritrova in una città come Roma Dimitri Buffa a non avere una banda sufficiente per fare un collegamento audio con Skype questa è la situazione vergognosa in cui si trova questo paese ricordiamoci che la democrazia digitale in futuro si baserà proprio sulla presenza di una banda larga decente e degna di questo nome intanto rivediamo Dimitri Dimitri se vuoi andiamo avanti altrimenti il collegamento credo che la possiamo finire qui onde puoi evitare ulteriori cose i telespettatori capiranno finché non mi riparano il computer sono attaccato a questa tavoletta che è perfetta ma che però con Skype non ha le stesse prestazioni ma io credo guarda a me mi segnala Skype un problema di banda non è un problema del tablet ma è un problema proprio di banda che hai che va e viene oscilla troppo e allora vedete che oggi si è svegliata così in Roma come ieri siamo svegliati sotto 30 mm d'acqua tanto noi l'ultimo che parla c'ha ragione ogni giorno è un giorno diverso un giorno va bene un giorno muori questa è la cosa Dimitri l'ultima cosa l'ultima cosa su Berluso sulla Rossi Bini che ha detto che i radicali sono stronzi stronzi balleggianti ha detto addirittura e tu cosa gli avresti risposto senza essere volgare? no non voglio essere volgare però come diceva Sgarbi è più bella che intelligente tutto sommato vabbè siamo stati cattivi in chiusura di puntata comunque veramente una puntata molto bella Dimitri io ti ringrazio per aver voluto registrare questa puntata che sta andando in onda indifferita oggi domenica 23 la stiamo registrando venerdì 21 ottobre bene Dimitri io ti ringrazio per la registrazione e ti saluto e l'appuntamento con Rivolte Arabe e l'intorni è fissato per domenica prossima dopo perdonate non per domenica 30 ma per la successiva domenica che dovrebbe essere il 6 esattamente sì il 6 novembre perché il 30 la tv radicale non trasmetterà e sarà impegnata al congresso di radicali italiani ad effettuare interviste e registrazioni un saluto io invece sarò al festival del cinema quindi salutami a Chianciano va bene salutiamo Dimitri Buffa ritorniamo nel nostro studio e l'appuntamento ripetiamo è per con Rivolte Arabe e d'intorni è per domenica 6 novembre 2011 ciao Dimitri un saluto a tutti ciao a tutti ciao Grazie a tutti.